Ben ormai i prodotti di Marzia li utilizzavo già da un po' di tempo, a volte facevo dei periodi, visto che il mio lavoro mi porta ad avere dei periodi soprattutto in estate di intenso lavoro, quindi mi integravo anche con prodotti non suoi, quindi utilizzavo prodotti con silicone, le normali sono quelli che si trovano sul mercato, cercando di trovare un po' il meglio, mi dà compagno, piuttosto che altri prodotti svizzeri, non ricordo il nome, e poi invece ho iniziato comunque ad affidarmi pienamente di mani di Marzia, quindi sia per i trattamenti, sia per il discorso invece legato estremamente alle creme, ecco, tutto quello che non puoi fare a casa pochino a me, avere maschera, sire, luci, insomma, il nuovo complesso.